Ultima idea, ci penserò su mentre faccio pipì. Plim plim. Moody, ti posso parlare? Credo di sì, stavo pensando di defilarmi e di andare al cinema. Ma non lo farò, l'orario di lavoro e quant'altro. Coraggio, sia di te. Chiamami Hank. Grazie, Hank. Ho cambiato idea, chiamami Professor Moody. Ti prendo per il culo, dai, metaforicamente. Cosa vuoi? Ecco, voglio sapere se sono uno scrittore. Cristo santo, ragazzo, chi sono per dirtelo? Sei il mio insegnante, ti stimo e penso che tu sia un grandissimo scrittore. Grazie. Ho letto tutti i tuoi libri, dal primo all'ultimo. E adoro la foto che hai messo, è molto elegante. Grazie. Sei il mio mentore, sai? Nella mia storia il vampiro giovane si prende una cotta per quello vecchio. Sei tu, metaforicamente. Sarei un vecchio vampiro allora, fantastico. Andiamo, Hank. Professor Moody, voglio la verità. La posso accettare. La dura verità, eh? Mmh. Non ho paura, spara. Ma la storia era brutta. Anzi, pessima direi. Sembrava quella puttanata insulsa di Twilight. Non sopporto quelle cazzate. Non è scrittura, è merda allo stato puro. Ora non dico che non migliorerai se continui a scrivere. Migliorerai, senza dubbio. Sto solo dicendo che se puoi fare qualcos'altro della tua vita adesso, qualsiasi cosa, resti bene a farla. Perché il mondo non ha bisogno di altre storie inutili sui vampiri. Mi spiego? Siamo d'accordo, amico? Credo di sì. La dura verità, giusto? Giusto. Insegnare non è così difficile.